Nell'episodio precedente Ok, no, 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 scusate, non volevo Dovrebbe essere Oh, porca puttana Porca tronca E' una donna sepolta nella sabbia Oh, cazzo Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti in un nuovo episodio delle cronache di uno morto, sempre insieme a Balanar Sicuramente fra poco vedrete parte di una registrazione che ho fatto circa due minuti fa Perché ho registrato purtroppo solamente il video Visto che Audacity, il programma con cui registro l'audio, è crashato all'improvviso e ho perso l'audio di quella parte Allora, in pratica è successo che ho preso la spada La spada, lo spadone della luna blu Dal tizio vicino alla ragazza pietrificata La ragazza pietrificata, piromante, si è sposta da qui a Maiula Ho comprato, mi pare di aver potenziato anche la fiamma della piromanzia, se non sbaglio Datemi un secondo che controllo Sì, ho potenziato la fiamma oscura della piromanzia Visto che fa più danno da essere vuoto Cosa che io sarò praticamente perennemente in questo gioco E quindi l'ho potenziata Fatto ciò, ho speso praticamente tutte le mie anime Che avevo raccolto nella boss fight dello scorso video E quello che voglio fare adesso, prima di continuare È leggere la descrizione di questa spada Di questo spadone della luna blu Allora, che cosa ci dice? La lama di questo spadone risplende come i raggi brillanti della luna Nelle antiche leggende, ormai quasi perdute Si dice che questa spada sia nata da un grande essere bianco E chissà chi è questo essere bianco Se ciò fosse vero, come si spiega quest'arma priva di vita? Forse c'è stato qualche sbaglio E sì, ok Quindi abbiamo preso questa spada Ho fatto una cosa che praticamente Nella prima run io non faccio mai Cioè uccidere NPC in difesi Però mi attirava tantissimo questa spada E quello che farò adesso sarà tornare lì dalle guardiane del fuoco E tornare al livello principale di questo personaggio Perché come vi ho già detto Voglio rifarmi la build Ed eccoci qua Via di passaggio Ora se non sbaglio dovrei entrare qui E parlare con queste belle ragazze Sì, voglio ricominciare tutto da capo Ah ma ha anche un nome questa guardiana Strowen Ok, consegnare ricettacolo per anime Sì Perfetto Dobbiamo riassegnare 77 livelli Quindi Siamo ripartiti dal livello base del nostro personaggio Cioè dovrebbe essere il 13 77 più 13, 90 Ok Quindi io porterei Il vigore a 20 Mi sono segnato su un fogliettino I punti che avrei dovuto mettere Per fare una build più o meno equilibrata Poi vigore a 20 Tempra La portiamo a 25 Ok 25 La vitalità la portiamo a 30 Molto importante Vediamo se ci abbastano i punti 30 Volontà la lasciamo così A 4 Anche se portandola a 10 Mi da uno slot di armonizzazione Mi servirebbe anche Però lo faremo più avanti Forza la portiamo a 20 E destrezza a 20 Insieme adattabilità a 16 Con adattabilità a 16 Raggiungo Ah a 15 Perché non ci arrivo Quindi togliamo un punto a vitalità E mettiamolo adattabilità Raggiungo 93 di agilità Ok Perfetto Quindi siamo di nuovo livello 90 Avevo calcolato per il livello 91 Ma fa niente Quindi confermiamo E d'ora in poi potremmo usare Anche le armi un po' più Un po' più Che richiedono destrezza Ora ce ne torniamo a maiula E vediamo quale arma appunto possiamo utilizzare E ora che siamo qui In teoria Potrei anche continuarlo Ad usare il randello Se non sbaglio Vediamo un po' Dov'è Forse richiede 26 In forza Sì 26 Quindi non potremmo utilizzarlo Se non a due mani Giusto? Sì? Ok tanto più o meno Lo usavo sempre a due mani Per fare l'attacco con R2 Quindi volendo Lo potrei anche utilizzare La spada che Vorrei utilizzare Tanto Sarebbe quella Sarebbe la Claymore per ora Oppure La spada di Drangle Che però mi serve 25 a forza Quindi per adesso A parte che Porterò più avanti La statistica forza Un po' più La porterò un po' Un po' più avanti Cioè da 20 La aumenterò Però per adesso Usiamo la Claymore Ok Sì Per adesso Usiamo questa Ora Nell'ultima zona Eravamo arrivati Praticamente Alle porte di Farros Se non sbaglio Rifugio di Ghirm Ah si chiama così Si Porte di Farros Rifugio di Ghirm Perfetto Andiamo lì Io spero che Questa mia decisione Di utilizzare la Claymore Non sia Uno sbaglio Allora Siamo qui E in teoria Abbiamo Questa via Che sale anche in alto Sulle scale E questa Che si Si inoltra In questa zona Allagata Però per adesso Io me ne andrei di qua Perché avevo visto Che c'era anche un forziere Prima di tutto Vorrei far fuori Costui Non ho idea Di quanto danno Faccia la Claymore Ma ne fa abbastanza Dai Pensavo peggio Ci metteremo un po' di più Ad uccidere i nemici Però saremo anche Un po' più Veloci Però adesso sta arrivando Anche quest'altro Quindi Io me ne vado Qua sopra E in teoria Dovrebbe salire solamente Questo Nano Si No Oh mio dio Ho fatto una cavolata Ok E' salito anche Il mammut Ho fatto questa scelta Ragazzi Ve lo ripeto Perché il randello Mi ha sul serio Se mi è rubato l'anima Non ne potevo più Non ne potevo più Dei suoi attacchi lentissimi Anche se adesso Ci impiegherò Veramente Molto più tempo Per uccidere gente Sono più contento Anche perché Per ora Diciamo che posso Utilizzare la Claymore Che va bene Non è potenziata Non è nulla Quindi Va bene Il danno è paura Però potrò più avanti Portando forza Ad una statistica Un po' più alta Utilizzare anche Spade un po' più Potenti Come Lo spadone Della luna blu Oppure lo spadone Di dranglick O la spada di dranglick Non mi ricordo Però dovete morire È il brutto Che li sto affrontando In una zona Abbastanza stretta Quindi un po' più difficile No Dai Muorici Ok Il Questo guerriero Mammut Ci è morto Tocca al nano Infame Ok Eh cos'era Un fitto Un fitto attacco Questo Ma che cosa sta facendo Ok dai È morto Perfetto Qui abbiamo La possibilità Di aggiungere Di accendere La torcia Però Io ci vedo benissimo Quindi non ne capisco Il motivo E c'era un falò All'in basso Me lo ricordo Tranquilli Cioè c'era un Forziere Non un falò No Ho distrutto Ho distrutto Questo Forziere Dannato me Andiamo a vedere Che c'era Quello qui In basso C'è morta Parecchia gente C'era Una pietra Prismatica Per 10 E qua c'è morta Parecchia gente Vediamo In quale modo Per colpa Del Del mammut Ok E questo Ah ok Questo è un mimic I mimic Sono diventati Più orribili Del primo capito Sono molto più brutti Sto facendo un po' Di fatica Perché ovviamente Non è il randello E Non shotto più le persone Aculeo Dello scorpione Nero E gambali oscuri Dovrei avere anche I guanti oscuri Se non sbaglio Fatemi dare un'occhiata Allora Artiglio dello scorpione Nero Dovrebbe essere Aculeo dello scorpione Nero Dovrebbe essere questo Spada da fondo Spada da fondo di Tark L'uomo scorpione La guardia In chela Di scorpione Contiene del veleno Che viene iniettato Nei nemici Colpiti dalla lama Il passato di Tark È avvolto Nell'oscurità Tuttavia Chi può veramente Chi può veramente Dire di conoscere Se stesso Secondo me Nessuno Bene Allora Proseguiamo per questa strada E vediamo dove ci porta Anche qui Anche qui ci siate voi Dannate Però qui non sputate Perché qua non fate nulla Io spero sinceramente Che in questa zona Non ci sia nulla Che riguardi la Gola nera Speriamo che ci sia Una bella zona All'aria aperta Ma qui più che altro Stiamo In Delle caverne Ok Quindi tu lanci Le tue asce E poi Quando le hai finite Mi attacchi Con Con le mani Ok Ok Perfetto Dai Diciamo che la Claymore Anche da non potenziata Fa il suo dovere Mi manca un pochino Il randello Vieni qua No 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 Non è caduta di sotto Maledetta Ok Si resetterà una volta Che ho riposato al falò Nessun problema Poi un'altra cosa Che in teoria Non ho fatto È portare Il tizzone smorto Al fabbro Nella bastiglia Non l'ho portato ancora Quindi dovrei farlo Perché Vediamo che cosa Quali opzioni Ci sblocca Dovrebbe essere Non ne ho la più palida idea Ok La Claymore La Claymore La devo potenziare Il prima possibile Assolutamente Martello pesante Di Ghirm E pezzo Di titanite Perfetto Sto raccogliendo Anche i minerali Per potenziare Le armi Quindi ottimo E Diciamo Dai Non me ne sto pentendo Di questa scelta Devo ancora potenziarla Per bene Vediamo se in futuro Sia Sia una degna arma Perché il randello Sul 6 ragazzi Mi aveva Dato troppa noia Gemma vitale radiosa E qua c'è Una specie di fontana Quindi In teoria Stavamo in una grotta Prima Scavata nella Nella montagna E qua c'è Una fontana Ormai prosciugata Con Degli scheletri Delle ossa All'interno E ok C'è tanta tanta roba Ok Devo esplorare bene Questa zona In primis Ho visto che ci sono I carissimi Maialini Un po' più cresciuti Rispetto a quando Vi ho incontrati La prima volta Maiula Più che altro Ok Adesso noto che Non sono dei maiali Sono dei cinghiali E Siamo calmi Sapete che vi dico Dopo che Ho ucciso Questi mostri Il primo faloc Che trovo Me ne torna Maiula E potenzio La La Ok Ok Che questi Questo tipo di nemico È un po' più resistente Del Cioè sono più resistenti Dei nani All'interno Della cava Quindi Non lo so Sono parecchio resistenti Quelli a Maiula Sono praticamente Quasi impossibili Ah c'è il falocco Adentro Sono praticamente Quasi impossibili Da uccidere All'inizio Ma questi qua Ok che sono più cresciuti Però sono più resistenti Dei nani Corazzati All'interno Della Della caverna Di prima Allora Facciamo Questa cosa Potenziamo La claymore Più in che possiamo Ovviamente E poi andiamo Dal fabbro Nella bastiglia Poi torniamo In quella zona Di prima Allora Ripariamo Non ho nulla Da riparare Rinforza Arma E rinforziamo La nostra Claymore Dov'è? Per adesso Diciamo che la Claymore È l'unica opzione Che ho Potrei puntare Più avanti Per la spada Di Drangleic Che Si potenzia Con delle Titaniti Scintillanti Io ne dovrei Avere Non ne ho idea Quindi fatemi vedere Titaniti Scintillanti Ne ho 4 Quindi potrei potenziarla Un pochino E volendo Posso arrivare Al livello 25 Con tutte queste Mie anime Allora Intanto le uso Perché Che me ne faccio Vediamo se Riesco a arrivarci Al 25 Invece di potenziare La Claymore Potenzio la spada Di Drangleic Che mi attira Un pochino di più Poi è speciale Quindi Si potenzia Con le Titaniti E avevo Anche ovviamente Un frammento Di Fiaschetta Vediamo se ne avevo Due Ne avevo due Addirittura Quindi pensate Quanto stavo indietro Nel consegnare Gli oggetti Ne ho tre Ok Non ne ho tre È un po' troppo Però dovrei avere L'osso da bruciare La polvere d'osso Sublime Questa si Quindi bruciamola Dovevo soltanto Tornare qui E ogni volta Che registro Me ne dimentico Sempre Perfetto Ora Quanti livelli Posso fare Carissima Vediamo Posso arrivare Al 24 Quindi Mi mancherebbe Un livello Ok Sapete che vi dico Sprego anche Le altre anime Che mi rimangono Tanto Ve l'ho detto Non me ne faccio nulla Stanno qui A prendere Polvere Nel mio Immaginario Inventario Che Ho appresso Ma non è vero nulla Non ho zaini E non ho nulla Appresso Quindi Dove solo E mette le armi Chi lo sa Non me lo scrivete Nei commenti Perché so Che cosa mi scrivereste Avanziamo di nuovo Di livello Vediamo se posso No Ancora 2000 anime Usiamo L'altra Un'altra Anima 1000 E così Dovrebbe Bastare In questi giorni Sono un pochino Raffreddato Quindi Mi sentirete Un po' Un po' La voce rauca Ok Livello 25 A questo punto Potenziamo la spada Di drangle Che io so Sono sicuro Che starò facendo Delle grandi Cazzate In questa Mia prima run Per esempio Passare dal randello Alle armi Un po' Più leggere Però Voglio provare Perché ve l'ho detta La prima run Voglio testare tutto Ucciso un NPC Sto facendo Praticamente Parte di tutti I patti che incontro A parte Dei patti Di gente Stupida Come Come I nani Della campana Che mi insultano O l'altro Lì Del patto Simil PVP Sarà così Ovviamente Non ho adesso Anime per Dare Da dare al fabbro Quindi usiamo queste E usiamo anche queste E vediamo com'è questa Dannata spada di drangle Che è più potente Scala meglio In destrezza Il che è buono Che statistica è questa qui Della freccia Efficacia Contraattacchi Ah ok Un po' più efficace Della Della spada Claymore Spadone della luna blu Non possiamo utilizzarlo Ancora E usiamo questo Ok 12.586 anime Credo che mi basteranno Per potenziarlo un pochino In teoria Essendo un'arma speciale Si potenzia fino a Più 5 Se le cose Non sono cambiate Possiamo portarla Fino a Più 2 E va bene così E ce ne torniamo Anzi Sapete Ho 9900 anime Mi potenzio anche La Claymore A questo punto Cioè che ci sono Visto che Non condividono Titaniti In comune La spada di drangle Che è la Claymore Quindi potenziamo Anche questa Più 1 Più 2 Più 3 Più 4 5 6 Poi vediamo Con quale Con quale mi trovo meglio Più 7 Perfetto Grazie di tutto Leningrast E adesso Facciamo Dei bei test Prima di tutto Però fatemi comprare Un pochino di gemme Perché Ne ho solamente 77 73 Scusate Non so leggere mai Potrei comprarmi Anche altre cose Per esempio Qualche coltellino Da lancio Ma si compriamoci Qualche coltellino Da lancio Magari ci Tornerà utile In futuro E torniamo In quella zona Di prima Che dovrebbe essere La cava Pietralucente Di Telsedora Accampamento Reale Eccoci qua Allora Prima di tutto Proviamo La spada Di Drangleic E mettiamoci Anche la claim Così possiamo Switchare Subito Dovrei essere Ancora No Sono in fat roll Non è vero Nulla Proviamola C'è qualche Nemico Qui dentro Vi ho visto Allora Due mani Toglie La bellezza Di 363 Questa E invece Questa 348 Quindi Più o meno La stessa roba Ok Però Mi sembra Un pochino Più veloce La La spada Di Drangleic Vediamo Confrontale Claymore No Questo è l'attacco Normale Vediamo Due mani No Più o meno Sono Sono la stessa Roba Quindi ho due Spade identiche Praticamente Fanno lo stesso Danno Solamente Che in teoria Questa Toglie 246 E questa 223 Però Da quello che ho visto Fa più danno Questa di Drangleic Vabbè Su questo tipo Di nemico Poi È anche più resistente Della clamor A livello Di durabilità Quindi Vabbè Lasciamo così Le useremo Tutte e due Per adesso Voglio utilizzare Questa qui speciale Di Drangleic E Qua c'è parecchia roba Ragazzi È un accampamento Reale Che vuol dire Reale Chi sono questi tizi Dei contadini Dei campeggiatori Perché sono qui Poi Cava Pietralucente Pietralucente Mi ricorda Qualcosa Con sit La pietralucente Freccia Lacerante Ci sono magari Qua dentro Non c'è nulla Eh Sì È un accampamento Non capisco Il motivo Però Così Siamo accampati Qua Ovviamente Ragazzi Scrivetemi In i commenti Se secondo voi Questa cosa Di passare Dal randello Alle armi Che utilizzano Un po' più Di destrezza Secondo voi Se secondo voi È una scelta Giusta Io L'ho fatto Principalmente Per cambiare Un pochino Dal Dalla vita Monotona Con randello Però Potrebbe Questa cosa Potrebbe Non piacervi Non piacervi Non lo so Fatemi sapere Grande anima Di soldato Ignoto E qua dentro C'è roba C'è un forziere Via Segreta Più avanti Quindi salto Attacco In salto Dovrò saltare Dentro Proviamo Sì Ok Urna Di acqua sacra L'ultima cosa Che vorrei fare È portare La volontà A dieci Per avere Almeno Uno slot Di armonizzazione Almeno uno Volendo Potrei anche Cinque effigi umane Ottimo Volendo Potrei anche Averne già uno In questo momento Togliendo per esempio Quest'anello qui Ok Tolgo questo Oppure L'anello Delle lame Però preferirei Togliere questo Dell'occhio malvagio Mettere Quest'anello E utilizzare Utilizzare Una piromanzia Devo aver preso Tutto Dovrei aver preso Tutto Vediamo L'ultima Tenda No Non c'è nulla Dovrei aver preso Praticamente tutto E questo tizio è sprofondato Nel terreno Quindi Ok Eccoci qua Ve l'ho detto La cosa che vorrei fare È prendere Almeno uno slot Per utilizzare Qualche piromanzia Così per svago Utilizziamo Come piromanzia La sfera di fuoco Ok Perfect Equipaggiamo Ovviamente La La fiamma Oscura Della piromanzia Più 7 Ma L'avevo equipaggiato L'anello No? Sì Ok E qui in basso Penso che sia Questa la cava Di pietra lucente Ok Quindi questo accampamento Serviva per Sorvegliare Questa cava Non ne ho la più palida idea E qui c'è morta Così tanta gente Che è prevedibile Che questo sasso Mi cadra addosso Uccidendo Chi Chi l'ha tirato Ovviamente Anima di soldato Ignoto E guardando bene Lì in basso Si nota Un'altra zona Vedete? E credo di Doverci arrivare Prima o poi Perché Cioè Altrimenti A che servirebbe Quel ponte lì In legno Qua c'è un'altra Di queste pietre Sua E ci muore Da solo Così Come un babbeo Varie anime Ovviamente Il gioco Ha capito Che ne utilizzate Un po' Per salire di livello E me le sta Me le sta ridando Proviamo questa Cavolo Cavolo Di spera Spera di fuoco Ma dove diavolo L'ho tirata? Soprattutto Quanti diavolo Siete? Noo Dai Bastardissimo Bastardissimo Ecco Come tento Di provare Qualcosa di nuovo Il gioco Mi punisce Tac Subito Ok Rieccoci qua Ragazzuoli Vi ho tagliato Un secondo il video Perché ho dovuto Riuccidere Tutti i nemici Lì nell'accampamento Perché a quanto pare Anche stando Nella Nella tenda Del falò Comunque Agriamo Qualche mostro L'intorno Ora di nuovo Questi tizi Mi tirano Le pietre Vediamo Se riesco A farli venire Qua E a farli Morire Con la roccia Ok Ne è morto Solamente uno Dai Non è male Sono soddisfatto Di questo mio Cambiamento Dai Lì B-shotto E A livello Di velocità Sarebbe Penso che Li avrei quasi Shottati Con il randello Se non shottati All'istante Però a livello Di velocità Un attacco Con il randello Pesante A due mani È come Due attacchi Con una spada Così veloce Quindi sarebbe La stessa cosa A voi vi tiro Una sfera di fuoco Nel dubbio Così per provare Benissimo Guanti Lunghi Da contadino Ah vediamo Avevo preso Anche dei guanti Oscuri I guanti Oscuri Erano Que Dove sono Li avevo presi Questi Eccoli E ci dovrebbero Essere anche I gambali Eccoli qua Che sono Dello stesso set E ho la netta Sensazione Che qui dentro Ci siano dei ragni Chissà perché Chissà perché E si scende Ancora di più Sembra Tanto L'antro Di Qualche ragno Qualche Mostro Che esce Dalle pareti E io Accenderei Anche una torcia A questo punto Giusto per fare Più atmosfera Visto che ci vedevo Comunque benissimo Ok E abbiamo Dei ragni Là dentro Quindi vediamo Ho comprato prima Dei coltellini Io ne tiro Qualcuno Addirittura Così tanto danno Fanno i coltellini Ah ok Adesso Vi ho attirati No Brucio con il fuoco Madonna No 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 Scherzavo eh Scherzavo Scherzavo eh No no Non lo uso più il fuoco Tranquilli Ok Curiamoci E all'attacco di nuovo Pazzà Dannazione Quanto danno fanno Troppo danno Troppo danno Però sono deboli Al fuoco Quindi Tiriamo La palla Si sono deboli Al fuoco Cioè l'ho detto Che sia a caso Ma in realtà Era vero Ok Falce Pesante Cos'è Soprattutto Dov'è Dov'è la falce Pesante Ho lo shuttle Eccola qua Potrei anche utilizzarla Eh no Mi hanno rotto il forziere Vaffanculo Chissà che c'era dentro Ok Rieccoci qua Piccolo taglio Scusatemi tanto Ragazzi Continuiamo Dicevo In alcuni casi Siete quasi costretti A rompere Questi forzieri Perché Cioè Nel senso Se non attaccate I nemici Lì intorno Vi uccidono Quindi Dovete attaccare Per forza Anche Il forziere Lì Magus Predatore E la congrega Ma quanti siete Oh No 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 Non mi aspettavo Un boss Un boss Qua dentro Ma che fanno Cos'è Ok Ho ucciso uno Di questi Chierici Se sono Chierici Curati Cioè Uccidilo Non curati Uh Ok Boss particolare Però Diciamo Non troppo Impegnativo Basta togliere Di mezzo Questo Mi sta dando Noia Prendersela Con questo Più grande Di tutti Che dovrebbe essere Magus E ora Uccidiamo Il resto Della congregazione Tranquillamente Quasi tranquillamente Perché non lo prendo Sta troppo in basso Ok Un boss Particolare Ma Niente di che Più che altro Che diavolo Stanno facendo Qua dentro In questa specie Di cappella Scusate Sul serio Non c'è Niente Qui intorno Sembra Strano Ok Andiamo Avanti E non Mi ha Dato Neanche Tantissime Anime Oh Mio Dio Questa Zona Sarà Terribile Lì c'è Una Titanite Una Lucertolina Sicuro Che non ci sia Nulla Ok Vediamo Qui Si sale In cima Oh C'è parecchia Roba Qua intorno Dai Anno No Anche Qui Non ci posso Credere Regret Anguizione Disillusion Bewilderment Quante Wondervi Gifte Sono I tuoi pezzi saranno forgivate. Ora è la chance. Demonstrate la tua sincerità per me. E cerco l'indulgenza. 95.000 anime? Che cosa ho fatto per... Per spendere così tanto per un'indulgenza. Allora no, l'indulgenza non gliela chiedo. Perché sicuramente forse ho ucciso, ecco, il guerriero che mi ha dato lo spadone della luna blu. Forse per quello, non lo so. Però vediamo, acquistiamo degli oggetti da lui. Ha tutto... Ah, il set dei... Dei sacerdoti di prima, insomma. Veste tradizionale dei chiarici di Drangleic. I chiarici di Drangleic non erano visti con particolare riverenza. E la loro posizione veniva preservata solamente come tradizione. È usanza che i chiarici indossino abiti diversi a seconda del loro sesso. Ma il motivo di tale tradizione è ignoto. Questa è una veste da uomo, ovviamente. E vende tutto il set che scala in forza. Scala male in forza, a parte la veste. Vari anelli per resistenza al sanguinamento, maledizione e veleno. La pastiglia oscura. E tanti tanti miracoli, ok. Che per ora non ci interessano. Però vende tuono celeste, un miracolo che non ho mai visto. Emette fulmini in una direzione casuale. Gli studiosi non sono ancora riusciti a determinare se questa sia la versione originale di Lancia del Fulmine o un suo derivato. Non è possibile ottenere il pieno controllo del potere degli dèi. Ma con un po' di fortuna questo incantesimo distruggerà i tuoi nemici. Quindi va a caso, un po' come la tempesta di fuoco. E questi sono sempre gli stessi, ok. Perfetto. E mi dice sempre le stesse cose. Quindi va bene, per ora non ci servi. Magari in futuro quando avrò bisogno di... Di essere perdonato. Anima morente. Falò ascetico. Per potenziare i falò. Scudo piccolo da chierico. E qui. Incenso dello ascetico. Ok, vediamo questo scudo piccolo. Scudo piccolo da chierico. Dovrebbe essere lo scudo porcino. Bellissimo, dovrò utilizzare prima o poi. Lo scudo piccolo dovrebbe essere questo. Sì, eccolo qui. E... Ok, è davvero piccolo. A quanto pare sembra... Sembra quasi un po' già bicchiari. Quindi per adesso non lo utilizzeremo. Ritorniamo con questo. Perfect. Scendiamo giù. Allora abbiamo zero sfere di fuoco. E dovrei trovare... C'è il falò? Sì, c'è il falò qua sopra. Meno male, ok. Proviamo ad uccidere quella dannata... Lucertolina della titanite. Non so se con una sfera di fuoco l'ha shotto. Penso proprio di no. Però proviamo. Dov'è? L'ho shottata? Yes. Oh, no, no, no. Perché hai fatto questa cosa? Cos'è? Oh, no. Qua? Cazzo di titanite. C'è un'altra titanite qua sotto? L'avevo vista. Sì, è rossa. Perché è rossa? Ok, fatemela uccidere. Perché sta lì? Vieni qua. Troppi qualcosa? No? Sei soltanto rossa? Perché sei stronza? Solamente per questo mi stai dicendo? Cioè, non ha droppato nulla? È possibile? Non ho capito questa aggiunta di una lucertolina rossa che poi non fa probabilmente nulla. Va bene. E sono questi cosi che mi lanciano le magie. E io dovrei avere uno scudo che le devia queste magie. Dovrebbe essere questo. Sì. Con il Perry. Proviamo. Ah, ma sei uscito? Questo qua non ha gli occhi. Perché non ha gli occhi? Vediamo se evita... Se evita queste dannate cose. Se magari la smettono di colpirmi. Oh, cavolo, cavolo, cavolo. Dicevo, perché quel basilisco non ha gli occhi? Non gli servono in questo luogo. Si sono evoluti per... Per non avere più gli occhi. Va bene, dai. Dicevo, proviamo ad evitare una di queste sfere magiche. Forse devo soltanto parare. Parando, riesco ad attutire un po' il colpo. Non tanto, eh. Non tutto. Però la maggior parte del danno lo paro. Devo capire bene come diavolo si usa questo scudo. Il che permette di deviare gli incantesimi con le parate, ma non mi pare che funzioni. Oppure quelli che non sono incantesimi, cioè... Lo sto utilizzando. O non ho il tempismo giusto per farlo. Niente, non ci sto riuscendo, non so perché. Va bene, dai. Intanto comunque un pochino mi ripara dal... Mi ripara un po' dalle magie che mi tirano. Quindi per adesso va bene così. Tra l'altro l'ho notata adesso che ho 14.000 anime, quindi potrei anche tornare a farlo. E ho droppato un'ascia. L'ascia che ho droppato. Se mi caricasse gli oggetti. Dovrebbe essere questa. Sì, è questa qui. Ok. Voglio provare un'ultima volta. Tirami i tuoi incantesimi, maledetto. Dai, tirami un incantesimo, random. Un po' più su. Eh, t'ho preso, eh. Ok, t'ho ucciso. Maledetto. E qui. Posso il... No, 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 no. Ok. Questa zona è la zona dei ragni, insomma. Ho capito, ho capito. Ho ferrato il concetto. Ok. Qui c'è tanta, tanta roba da esplorare. Vediamo qua. Non si apre da questo lato. Forse la posso rompere, no? Qua dentro. A parte che c'è il... Sembra un po' il mostro che c'è in Star Wars. Ah, c'è Ornifex. Ciao, Ornifex. Non so, non so, non so. E qui c'è il mostro che c'è in Star Wars. Sì, ma io ho un'efficio per te, io potrei fare una cosa per la tua scuola. La mia scuola è molto semplice. Sono sicuramente che ci saranno a te. Non ho bisogno di pagare questa volta, ma devi portare un'aria meravigliosa. Ok, Ornifex l'armaiolo Stavo notando una cosa, aspettate Stavo notando che qua ci sono dei manichini O quelli che sembrano dei manichini Questi qua sembrano cuciti, vedete? Hanno la pancia, lo stomaco cucito Ma quelli più in alto hanno un incavo nel legno Se questo è legno o pietra Che ha la forma di un effigio umano Quindi sia possibile, che sia possibile Tramite l'impianto di un effigio Portare alla vita questi manichini In effetti, da quello che mi ricordo I nani, anzi non i nani Più che altro gli ignomi nella campana Sono stati creati dalla regina Di non so cosa E forse sono stati creati qui Perché, ok, questi Hanno tanto l'altezza di quegli ignomi Eh no, 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 però li sto parlando La devi smettere, eh E la devi smettere perché altrimenti Uccido Ornifex Quindi, la mia teoria è che questi Siano quei, quegli ignomi Ho difficoltà nel dire Quegli ignomi Ok Non ce la faccio Secondo me sono, sono quelli, quelli lì Insomma Perché, cioè Secondo me Funziona così Li hanno creati in questa zona Tramite il metodo che vi ho detto Però, se questi qua Sono già con l'effigie dentro Sono stati cusciti con l'effigie dentro Perché non sono vivi? Oppure, non lo so Non ne ho idea Sono soltanto speculazioni così a random Quindi Parliamo con Ornifex Sì Prima di me ha detto Se gli fornisco un'anima Mi Mi Me la fa gratis Per questa volta L'arma speciale E possiamo creare La spada della peccatrice perduta La mannaia Il martello del re di ferro E la lancia La lancia L'ammazzadraghi No, voglio leggere che cosa dice Una Ranseur Che cos'è? Non ne ho idea Forgiata dall'arma del vecchio ammazzadraghi La lancia del cavaliere Noto come l'ammazzadraghi E' stata infusa con il potere dell'elettricità E riesce persino a frantumare Le scaglie di pietra dei draghi Gli attacchi potenti Scatenano il potere Latente dell'arma Effetto fulmine Attacco speciale Attacco potente Ovviamente Insomma E' la lancia Di Orstenes In pratica E poi Vabbè Comunque ci sono anche le altre armi Che per ora Non leggeremo Io vorrei comprare tanto La spada della peccatrice perduta E da quanto ho speculato Io potrebbe essere Izalit La strega Vediamo che cosa ci dice Spadone pesante Forgiato dall'anima Della peccatrice perduta La sua lama Risucchia la vita Di chi la impugna Ah ok Quindi L'effetto è Gli attacchi danneggiano Anche chi la impugna Quindi Non la voglio più Perfetto La vera natura Di questa spada E' ignota Persino Alla peccatrice perduta Stessa Chi sceglie questa spada Condivide il fardello Dei misfatti Della peccatrice perduta Perfetto La potrei comprare Giusto per Comprarla Per sfizio Anche perchè me l'ha regalata Possiamo riparare Riforgiare Acquistare oggetti La Murakumo Che non è male Non è proprio male Partizan Lama doppia E varie altre cose Varie frecce Abbiamo la fiamma Della farfalla Perfetto Fiore verde E varie incantesimi Varie stregonerie Più che altro Parliamo Dai Vediamo che cosa ci dice Questa è stata Influenza Perfetto La sua La sua Si 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 Immaginari folk. È difficile credere adesso, ma questa terra è stata un paese un paese florevo. Il suo reino, Vendrick, è arrivato vicino a riuscire la essenza dell'esercito. Quella un'esercita l'esercito che sicuramente aveva. Immaginare quello che potrei creare con un'esercita l'esercita. È detto che la nostra tecnica è originata da una persona strana, che ha abitato questo paese. Un'esercita, che viveva molto, molto fa. Non sappiamo ancora cosa era. Ma se ti trovi una un'esercita l'esercita, portate l'esercita per me farmi vedere. Hai senti che mi sbagliate? Ci sono sempre in questo modo. La forma che ti guarda a qualsiasi creature non familiare. Ok ragazzi scusatemi un altro piccolo taglio Allora ho finito di parlare insomma Re Vendrick a quanto pare stava studiando l'anima L'essenza delle anime insomma E mi ha detto che se gli porto l'anima del Re Vendrick Chissà quale arma riesce a creare E questo mi spinge tanto ad andare avanti Quindi proseguiamo verso questa porta chiusa Quest'anima qui in basso, pezzo di titanite Qualcuno qui dentro ci è rimasto secco E vediamo che cosa c'è Ok c'è gente pietrificata Quindi si basilischi me lo immaginavo Per primo mori tu E questo mostro che diavolo di mostro è Sembra quasi un non morto Infettato da un ragno un po' come in Half-Life Viene the grab Ce n'è uno dietro vero? Si! Porca! Come nei film Oh mi ha fatto danno morendo Dannato E qua è pieno zeppo di ragni Quindi si Questa qui se non l'avete ancora capito È la zona dei ragni Yutobi sarà tanto contento E insomma andiamo avanti Ok 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 Qua c'è qualcosa Nada de nada C'è uno spirito rosso È un NPC Spero Vero? Vediamo No 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 Primo muori te Muori Ok Poi muori tu Ok mi fa sempre danno mentre muore Non so perché Io mi curo E adesso Voglio affrontare quest'essere Chi sei tu? Hm? Sei un minatore No la mia guardia no Annato È veloce cavolo Dai affrontami Se tiri lo scudo Se ti metti lo scudo esatto Dovrei riuscire a farti questo E no Non ci riesco con lui Praticamente ho scoperto da poco Che facendo questo Questa mossa qui È una specie di Spezza guardia Ad una persona con lo scudo Oppure senza Riesco a fargli una specie di Contraattacco Diverso da quello normale Sembra tanto Una porta da spaccare Questa Ma cosa? Ok Questa non me l'aspettavo Una porta Che conduce ad una stanza Con un'altra porta Che conduce ad un corridoio Con un'altra porta Una porta chiusa Ovviamente Perfetto Quindi è stato Inutile venire qui Però Ci sono talmente Tante strade In questa zona Che Mi sto perdendo Sopra sono andato Quindi dovrei proseguire Per questa zona Però sapete Sto terminando il tempo A mia disposizione Quindi Terminiamo qua l'episodio E Sì Ah Questa è la zona Che vedevo dall'alto In teoria prima stavo là sopra Il pontile Vi ricordate Che avevo detto prima Siamo arrivati qui in basso Siamo Ci siamo avvicinati un po' A questa pietra lucente Quindi per ora Io vi lascio qui Balanar Come al solito Vi saluta Ci vediamo al prossimo episodio Ciao 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 ciao